pantomima la posizione orizzontale nella sua camera in subaffitto adolfo si sveglia tardi invece di alzarsi si mette a pensare a una giovane vedova sua lontana parente d'acquisto che gli ha conosciuto per caso in questi giorni e che vive sola e povera con due bimbi è stato a farle visita un paio di volte di sera in seguito a qualcuno dei frequenti litigi che gli ha con Teresa non ha potuto tentare approcci perché c'erano i bambini presenti ma adolfo si propone di tornarsi alla prima occasione e intanto immagina nella prossima visita di trovare che i bambini sono già andati a letto poiché lei abbia a dirgli una volta che soffre di insonnia lui le direbbe conosco un rimedio per farti dormire un massaggio alla fronte stenditi lasciami fare vede col pensiero le fasi e i particolari della scena mi sembra facilissimo la giovane vedova è assetata d'affetto e quando lo vede arrivare si illumina tutta sempre fantasticando adolfo abbandona lei e passa a una signorina che abita sola un appartamentino sopra quello di Teresa spesso adolfo la incontra nell'ascensore è una biondina piccante e molto inante gli disse un giorno con disprezzo che è mantenuta da un vecchio e che è piuttosto leggera e libera di quest'ultimo in quell'occasione adolfo finse di dividere il disgusto di Teresa per il comportamento riprovevole della ragazza rimase impassibile ma il sangue gli dia un tuffo a quelle notizie ed allora egli sogna ad avere un'avventura con l'elegante coinquilina di Teresa immagina di incontrarla nell'ascensore e che lei gli dica scusi se le rivolgo la parola senza che ci conosciamo dica pure e farebbe lui affabilmente nelle fantasticherie relative ad avventure garanti adolfo preferisce sempre lasciare l'iniziativa alla donna sia perché questo sarebbe l'ideale per la sua pigrizia sia perché il terrore che ha di Teresa rende inverosimili i suoi tentativi troppo audaci e scoperti no non qui direbbe la signorina ho bisogno di parlarle riservatamente potrebbe venire un momento in casa mia e va bene direbbe lui seguendola ma non lo dica nessuno questo sempre per paura di Teresa e anche per far sapere direttamente alla ragazza che la può contare sulla sua discrezione non sono mica una sciocca direbbe lei la biondina lo introduce nel suo appartamento lo fa sedere in salotto dove gli offre una sigaretta un bicchierino di liquore poi siede in una poltrona davanti a lui accavallando le gambe e gli dice che ha desiderio di darsi al cinematografo al teatro e gli chiede consiglio e appoggio allora lui dissimulando il proprio turbamento le dice che il suo fisico gli sembra adatto e con freddezza come se si trattasse ad una visita medica dice faccia vedere le gambe la figura si alzi permette signorina per amor dell'arte e senza sospettare in lui al tremire o fingendo di non aspettarle si lascia esaminare poi adolfo torna col pensiero alla vedova poi a Teresa anche Teresa è una bella ragazza ma a lui non dice più niente dopo alcuni anni di consuetudine sente battere i tappeti nel cortile si alza più per abitudine che per altro va a dare un'occhiata attraverso il buco della serratura inquilina della camera accanto una signorina impiegata è ancora in casa ma ad adolfo non riesce di vedere nulla pensa bisognerà che uno di questi giorni faccia un bagno se morissi d'improvviso farai una figura orribile è disgustato di se stesso ed aver fatto tardi mentre si lava la faccia ripensa alla giovane vedova ma senza desiderio anzi constizza contro se stesso anche la fantasticheria relativa alla conquilina ora che lui è in piedi lo lascia indifferente la posizione orizzontale influisce la voce del figlio della padrona di casa che domanda il martello non è andato al lavoro oggi sta accomodando qualcosa adolfo si ricorda che è domenica pensa a parte la messa la domenica è la giornata delle valvole dei campanelli elettrici che vengono accomodati in casa quella in cui si taglia il maggior numero si fa il bagno ai cani squilla il telefono e la padrona di casa viene a chiamarlo è per lui un tale che vuole un appuntamento per questioni di lavoro un pomeriggio pieno grida adolfo nel microfono all'altro che vuol sapere a che ora potrebbero incontrarsi tra mezz'ora glielo saprà dire mi chiami fra mezz'ora invece non ha niente da fare ha risposto così per guadagnar tempo perché non sa a che ora dare l'appuntamento non volendo legarsi perché non sa che cosa dire per non far capire che non ha niente da fare e tra mezz'ora ne saprà altrettanto dirà un'ora qualsiasi magari proprio quella che gli fa meno comodo e la dirà proprio pensando che è quella che gli fa meno comodo segreti mentre l'amico gli parlava piero pensava che supplizio stare in conversazione con una persona gentile che gli stima con cui non siete molto in confidenza che dice cose che non vi interessano e voi non riuscite a svincolarvi una specie di paralisi della volontà impedisce di troncare e andarvene per non dare esca il discorso dell'altro non interloquite ma ogni tanto per tema che si capisca troppo il vostro disinteressamento dite una parola d'approvazione che più che mai fomenta il gracidio dell'altro voi fate uno sforzo per sorridere e i muscoli facciali mi dolgono certe volte mi fanno un discorso un racconto che non mi interessa e all'ultimo io non ho capito nemmeno una parola ma sono bravissimo a far credere che ascolto e capisco ho acquistato una tale perfezione in quella tecnica che riesco persino a interloquire talvolta a fare qualche piccolo commento appropriato senza sapere di che cosa mi si sta parlando non verrà bene che io mi decida a dire la verità i rapporti con i miei simili mi sono faticosissimi perché uno salvo rare eccezioni non so che cosa dire due non mi interessa minimamente quello che mi dicono tre temo che capiscano queste cose perché recito sempre una faticosa commedia quando mi parlano sorrido con sforzo e recito la commedia di chi ascolta mentre più delle volte non sento nemmeno quello che mi dicono ho acquistato tale maestria nella finzione che essa mi riesce perfettamente e come ho detto arrivo perfino a fare delle osservazioni a proposito senza sapere di che si sta parlando ma quale fatica mi costa tutto questo è per me uno sforzo continuo una tensione incessante niente è spontaneo nei miei rapporti col mondo inoltre temo sempre che possono leggermi dentro quel che penso per volta anche se non lo penso mi passano per la mente giudizi offensivi per chi mi parla dentro di me mentre qualcuno mi parla dico frasi come che seccatore non mi interessa affatto che cretino potrebbe darsi che l'interlocutore sia realmente un seccatore 99 volte su 100 è così certe volte gli pare che l'altro debba leggere in fronte pensieri di disistima dopo cena adolfo è venito a visitare la giovane vedova che spera di portarsi a letto pensava di trovarla sola aspettato che si facesse tardi sarà cambiato anche la biancheria invece i ragazzi sono ancora in piedi e l'hanno accolto molto festosamente con baci e abbracci si vede che la vedova spera di trovare in lui un affetto e l'accoglienza dei due bimbi riflette le illusioni della mamma i due ragazzi stavano facendo i compiti di scuola assistiti dalla mamma ci sono ancora i quaderni e i libri aperti sulla tavola insieme col senso di contrarietà adolfo prova un po di pena a questa scena adesso pensa mi tocca risobbarcarmi al fastidio di una visita seria e malinconica almeno i due marmocchi se ne andassero a dormire ma non si muovono ci fosse qualche probabilità che andassero a dormire prima che lui se ne vada adolfo resterebbe anche fino a tardi ma non se ne vanno finché c'è lui mi secca di perdere il tram questa casa è lontanissima dalla sua dovrei trovare un pretesto per andarmene pensa ma non mi lasciano andare a grado le proteste di lui che non vuole niente la bambina porta anche il tè con bei tovaglioli ricamati e un vassoio di pasticcini adolfo resta male pensa mi secca so che si dibattono in ristrettezze finanziarie addirittura nella miseria è un grosso sacrificio per questa gente la bambina è molto carina a un tratto adolfo si sorprende a pensarlo si ritrae sgomento dal pensiero molesto che mi metterei anche con la bambina sono un mostro no no non lo farai però non lo so mica fino a che punto arriverai forse avrai scrupola forse ma non ne sono proprio sicuro ora la mamma dice alla bambina di suonare la fisarmonica nella stanza malinconica la bella bambina si mette a suonare un pezzo allegro e ad adolfo viene una gran tristezza pensando al padre che le aveva fatto studiare questo strumento e ora non la sente c'è la fotografia alla parete e ad adolfo sembra quasi che il defunto lo fissi con occhio severo e i ragazzi non si decidono ad andare a letto il maschio poverino è un po' antipatico ad adolfo è troppo cresciuto per la sua età ha quella voce di gallinaccio che hanno i ragazzi nel periodo dello sviluppo è un principio di penuria sul mento è sempre rosso e ridente e si muove come un ossacchiotto certe volte sembra quasi un idiota resiste alle insistenze se ne va i ragazzi lo salutano con un mondo di feste lo considerano un vero parente lo chiamano zio adolfo pensa se teresa immaginasse una cosa simile non sa niente di questa conoscenza e di queste visite nei pasticci gravi al solito pensa adolfo sono un imbecille finirò per essere ammazzato devo avere un demone dentro e sì che sembro serissimo a chi non mi conosce bene ho una doppia vita che niente io in realtà teresa lo ritiene un po' pazzo e soprattutto falso glielo dice forse sono davvero falso pensa adolfo nel senso che sono diverso da quel che sembro ma sono talmente falso che non sono nemmeno falso come sembro sono un po' solitudine camminando per la strada pensa non mi lasciate solo ho paura della solitudine perché mi scatenerei come una belva e invece no quando sto solo sono in fondo saggio e trovo freni nella mia volontà e quando questi freni vengono dall'esterno che mi sembra che mancando ad essi mi scatenerei e in realtà finché sono frenato da timori e considerazioni esterne da una situazione coercitiva altra donna famiglia società si sviluppa la doppia natura in me allora occultamente mi scateno appena posso e mi butto giù nelle più ignobili pericolose e stupide avventure galanti nessun freno interiore però se fossi completamente solo al mondo non potrei scatenarmi indipendentemente dal freno intimo perché con chi lo farei dunque la società è insieme limite stimolo e condizio sine qua non ti lega ti spinge ti impedisce e ti dà la possibilità e l'impulso di fare certe cose da solo non c'è più l'impulso esterno o perlomeno è fermato dalla volontà ma nello stesso tempo se la solitudine è totale non c'è nemmeno la possibilità esterna lusione dovrei essere solo ma non solo su sei atti personali e restando in mezzo al mondo perché è in questo caso che mi sento capace di tutto in campo sessuale sempre come ho detto col freno interno della volontà che agisce in questo caso forse perché mi rendo conto che non essendoci freni esterni sono in grave pericolo e allora divento saggio che non ci sono quei freni esterni Achille Campanile Paganini non ripete quando Paganini dopo un ultimo interminabile acrobatico geroglifico di suoni rapidissimi ebbe terminata la suonata nel salone del regal palazzo di Lucca scoppiò un applauso da far tremare i candelabri gocciolanti di cera e i ridacenti di cristallo di rocca che pendevano dal soffitto il prodigioso esecutore aveva entusiasmato come sempre l'uditorio. Calmatosi il fragor dei consensi e mentre cominciavano a circolare i rinfreschi ed ogni intorno si levava un ciccaleccio ammirativo la Marchecia Zanoni seduta in prima fila e tutta grondante di merletti veneziani intorno alla parrucca giallastra disse con la voce cavernosa e fissando il concertista con un sorriso che voleva essere seducente tra le mille rughe della sua vecchia pelle. Bis! Inguainato nella marsina con le ciocche dei capelli sugli occhi Paganini si inchinò galantemente sorrisse alla vecchia gentildonna e mormorò a fior di labbra mi dispiace Marchesa ma mi dispiace Marchesa di non poterla accontentare e la fu signora che io per difendermi dalle richieste di bis che non finirebbero mai o una massima alla quale non ho mai derogato né mai derogherò. Paganini non ripete. La vecchia signora non lo udì con un entusiasmo quasi incomprensibile in lei che era sorda come una campana continuava a batter le mani e a gridare con le corde del collo tese come una tartaruga. Bis! Bis! Paganini sorrise con piaciuto di tanto entusiasmo ma non si lasciò commuovere facendo alla vecchia dama di non insistere e ripeté con cortesia fermezza. Paganini non ripete. Come? fece la vecchia che naturalmente non aveva sentito. Paganini ripetè il gran violinista voce più alta. Non ripete. La vecchia sorda non aveva ancora capito. Crede che il musicista avesse consentito e si dispose ad ascoltare nuovamente la sonata. Ma vedendo che il celebre virtuoso si accingeva a riporre lo strumento nella custodia esclamò afflitta. Come? E il bis? Le ho detto signora? fece Paganini. Paganini non ripete. Non ho capito! disse la vecchia. Paganini non ripete? strillò Paganini. Scusi? fece la vecchia. Con questo brusio si arriva ad afferrarle parole. Parne un po' più forte. Il violinista fece portavoce con le mani attorno alla bocca e le urlò quasi all'orecchio. Paganini non ripete! La vecchia scosse il capo. Non ho capito le ultime parole. gridò come se sordo fosse l'altro. Non ripete! Non ripete! Paganini non ripete! strillò il virtuoso. La vecchia fece una faccia allarmata. Si vuole far prete? domandò. Ma no! urlò Paganini in sgomento. Paganini non ripete! Ha sete! fece la vecchia. Ha sete! fece la vecchia. E volta ai domestici in ebrea che circolavano coi vassoi. Ha un rinfresco al nostro glorioso violinista. Ma che sete! esclamò questi. Ma che sete! esclamò questi. Che rinfresco! Via via! Il bis ora! insiste la vecchia convinta che il cor sentì. Via via! Il bis ora! insiste la vecchia convinta che il cor sentì. Via via! Il bis ora! insiste la vecchia convinta che il concertista stesse per contentarla. Ma questi di nuovo si inchinò con perfetta garanteria è. Le ripeto! disse Paganini. Le ripeto! disse. Che Paganini non ripete! Quel pezzo ultimo! Quel pezzo ultimo! continuava la sorga. Paganini non ripete! urlò il violinista proteso sull'orecchio di lei facendo svolazzare i merletti veneziani che le pendevano dalla gialla parrucca. Quante volte glielo devo ripetere! Una volta! fece la vecchia che era riuscita a afferrare l'ultima frase e crede che Paganini le domandasse quante volte doveva ripetere la sonata. Una sola volta mi basta! Paganini non ripete! ripete Paganini. Va bene, va bene! replicò la vecchia che questa volta aveva capito e crede che Paganini non volesse ripetere la frase detta. Che questa volta... che questa volta... va bene, va bene! replicò la vecchia che questa volta aveva capito e crede che Paganini non volesse ripetere la frase detta. Non occorre che me lo ripeta! Ho capito benissimo! Mi basta che faccia il bis! Paganini strillò Paganini con... Paganini strillò Paganini con quanto fiato aveva in gola. Paganini strillò Paganini con quanto fiato aveva in gola. Non ripete! Non ripete! Non ripete! La vecchia fece no di non aver capito. Paganini si vide perduto. Si volse al gruppo degli altri invitati che si erano affollati intorno a loro, attratti dalla scena, e disse in tono disperato. Fatemi il favore, ditelo e voi! Fatemi il favore, diteglielo voi! Non ha ancora capito che non ripeto! Glielo ho ripetuto venti volte! Glielo sto ripetendo! Non ripeto! Quante volte glielo devo ripetere! Molto tapezio molto! Grazie a tutti